Salve a tutti, sono Mr. Antonietro e siamo qui ancora su Halo 2, città santa, covenant, alta opera, santuario dei gerarchi, l'Arbiter. Dopo quello stesso Master Chief nell'ultima puntata, cambio della guardia, da Elita Brut, e stranamente gli vanno bene. Tutto ciò è senza precedente, è inaccettabile. Certo. No, profeta, voglio solo esprimere la mia preoccupazione, perché il Brut... La variazione della guardia è stato un passo radicale, ma i recenti sviluppi hanno mostrato che gli Elite non sono più in grado di garantire la nostra sicurezza. Riferirò questa decisione al Concilio. Politica, che noia. Sai, Arbiter, che gli Elite hanno minacciato di dimettersi? Di lasciare l'Alto Concilio per via di questo scambio di ruoli? Siamo sempre stati i vostri protettori. Questi sono tempi difficili per tutti noi. Anche se l'annientamento degli umani ci ha riempito di gioia, la perdita di uno degli Anelli Sacri grava sui nostri cuori. Abbiamo messo da parte il nostro dolore. È rinnovato la fede nella profezia che predice il ritrovamento di altri Anelli. E ora la nostra fiducia è stata ricompensata. Halo, il suo vento divino spazzerà le stelle, instradando coloro che ne sono degni verso la salvezza. Ma come avviare questo processo? Per lunghe ere abbiamo cercato qualcuno che svelasse i segreti degli Anelli. Un oracolo. E ora, grazie al tuo aiuto, l'abbiamo trovato. Con la necessaria umiltà abbiamo posto un quesito all'oracolo ed è... Con grazia e chiarezza ci ha mostrato la soluzione. Tu raggiungerai la superficie dell'Anello e recupererai questa icona sacra. Con essa la nostra promessa si compirà. Salvezza per tutti. Grande viaggio avrà inizio. Grande viaggio verso la morte. Come al solito. Una volta eliminato lo scudo ci dirigeremo alla biblioteca. Non voglio far aspettare i gerarchi. L'umano che ha ucciso il profeta del rimorso. Chi è? Tu cosa ne dici? Il demon è qui? Perché? Hai voglia di vendicarti? L'unico mio pensiero è impadronirmi dell'icona. Ma certo. Bello. Come posto. Ci abbandonano sempre da soli. Che bello. Oh che cazzo è. Girati, girati. Tium, tium, tium. Un. 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 Ricevuto. Ok. Perfetto. Mini droni. Belli. Oh, si inizia il viaggio fra i tunnel. Grunt morti. Eh. Sì, ci metti un'ora ad aprirlo, te. Checkpoint superato. Mi viene un dubbio. Non sei più gentile come prima. No. Si vede che ho fatto la stronzata. Ma com'è che era? X per diventare invisibili. Un grunt amico. Bene. Jackal. Però magari la pistolina grunt era meglio se ce la tenevamo. Oh, ricariche. Sì. Ricevuto. Ma alla fine è facile. Beh, che sei. Bravissimi. Fate il lavoro al posto mio. Siete forti. Vi pensavo peggio. Adesso. Io prevedo brutto. Ci sono le sentinelle. Tanti brut morti. E ho paura che... Ci saranno anche tanti, tanti flood. E tu dove mica arrivi? Tanti, ma tanti flood. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Muori. Ora noi possiamo premere e oppure semplicemente dargli dei pugni. A volte funziona, a volte no. Come fai a saperlo? Magari non tiriamo le granate. Ok, premuto. Oh. Vedè che staccadengo. Che bruttissimi rumori. Ciao. Ah, belli gli scudi. Va bene. Sulla cencia. E' un'enforcer di merda. Flut da manetta. Tutti per me. Ehm, che brutto. Ehm. 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 Che cazzo mi ha sparato? Ah, le enforcer Tu mi hai detto che devi avvicinare qua la cazzo è finita cerchiamo armi perché queste qui fanno veramente schifo allora non mi è piaciuta la cosa che hanno sostituito il mitra con questa no vabbè altro che hanno messo il mitra al posto del fucile d'assalto ma allora non mi è piaciuta come scelta però mi sono piaciute l'aggiunta di alcune armi covenant ok stronzio via ok va bene questa mi piace però magari è meglio andare così un po' più pesanti giusto perché sono flood non peraltro allora quelli dopo ci ci cagano il cazzo wow oh cazzo quelli prossimo umani eh sì ok 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 Ma che casino l'ho visto bella però meglio usare questo la carabina veramente non ha effetto oh cazzo non ho capito anch'io perchè non sono andato avanti dritto ok ok tutto è ricarico per me oh dai è veramente tosto anche se è una difficoltà bassissima mi va bene andare via dritti si vabbè difficoltà facile ci muore come degli stronzi cosa che hanno fatto? li hanno resi praticamente immortali i food non 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 troppi flut volanti sono troppe di queste palle sono troppe di queste palle ma io non 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 ma quanti cazzo ne vengono dai oh merda ok di qua magari non mi cagano oh certo non mi cagano oddio continuo a sbagliare casting continuo a premere E anziché F ok andiamo avanti senza cagare ok bello adesso arriva una sentinella qui davanti sicuro ok ok negativo signora non sono governor se mi ricordassi dove si va di qua siccome non sai c'è un po' di nebbia ok 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 dobbiamo arrivare fin là il video di oggi finisce qua lasciate un mi piace commentate iscrivetevi e al prossimo video ciao 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 ciao